Radio Strategi, strategie e novità per professionisti e appassionati di radio. Eccoci con un nuovo appuntamento di Radio Strategi, ben ritrovati da Giorgio Decclesia. Nuova settimana, nuova puntata dedicata ad un argomento molto importante, cioè quello del claim di una radio. Che cos'è il claim di una radio? Un po' il suo slogan. Molte radio non ce l'hanno, altre invece hanno scelto di averlo. Ho analizzato così nel corso di questa settimana alcuni dei principali claim delle radio nazionali o delle più grandi radio locali italiane e mi sono segnato così alcuni punti che ho trovato interessanti da condividere con voi per magari individuare un nuovo claim per la nostra radio o analizzare se il claim che abbiamo adottato è efficace quanto basta. Vediamo quali sono i cinque elementi chiave di un claim che spacca e cominciamo subito dalla domanda Perché è importante il claim di una radio? È importante perché imprigiona l'essenza della nostra emittente in termini di contenuti, di musica, di messaggio e più in generale diciamo così in termini di mission e posizionamento. Bei paroloni ma in sostanza cosa è esplicita il claim? Nient'altro che cosa fa la mia radio, per chi lo fa, come lo fa e cosa propone e uno slogan, un claim potrebbe riassumere tutti questi elementi o alcuni di questi quindi sottolineando quali sono o qual è l'elemento principale su cui si sofferma la radio in termini di posizionamento e di mission. Ecco, vediamo insieme quali sono le cinque caratteristiche fondamentali di un claim radiofonico che spacca. Esplicativo. Il claim in una frase, in poche parole, deve spiegare l'essenza della radio e il suo posizionamento in termini di contenuto e di musica, se c'è la musica. Facciamo un esempio concreto per renderci subito conto di quello che vuol dire esplicativo. RDS ha scelto come claim 100% grandi successi. Spiega in tre parole che la radio suona solo i grandi successi, 100%, non un 80%, non un 20%, non un 30%. Quindi non troveremo canzoni di artisti sconosciuti o artisti super emergenti, troveremo solo canzoni di artisti affermati oggi e affermati anche qualche tempo fa. Altro esempio di esplicativo, quando un claim è esplicativo, Radio Italia, solo musica italiana. Spiega benissimo in tre parole, solo musica italiana, che la radio Italia suona solo musica italiana. Non ho neanche altre parole per esprimerlo, l'hanno già detto nel claim, facilissimo. Esplicativo. Altro aggettivo, altra qualità che un claim che spacca deve avere, il fatto che debba essere semplice. Dobbiamo usare parole facili, semplici, soprattutto facili da ricordare, no paroloni, no frasi complicate. Pensiamo ad un claim che possa capire anche un bambino di cinque anni. Deve essere semplice. I claim sbagliati possono essere, per esempio, Radio Caio, ma la sto inventando, l'apoteosi della musica. Già il termine apoteosi, sai, suona male, è un po' complicato, non tutti lo capiscono, non si memorizza, no? Oppure Radio Sempronio, la sincronicità nella tua zona. Giusto per giocare, per farvi capire quando un claim è cacofonico, quando suona male, quando non è semplice, no? Invece le parole sono semplici. Ritornando a Radio Italia, solo musica italiana, RDS, 100% grandi successi, sono parole semplici, chiare, esplicative e molto facili da memorizzare. Nota a margine, io eviterei il più possibile l'uso di parole inglesi. Proprio per questo principio della chiarezza, della semplicità, in Italia non tutti parlano ancora l'inglese, anzi, forse pochi lo parlano bene, lo capiscono bene. Quindi renderemo il nostro claim, cioè la frase chiave di tutta la nostra emittente, incomprensibile ad una grandissima parte degli ascoltatori. Certo, mi direte voi, ma Radio DJ, One Nation, One Station l'ha adottato, RTL, Very Normal People l'ha adottato. Sì, sono d'accordo con voi, io lo eviterei il più possibile, ma loro hanno adottato un claim inglese usando parole comunque molto facili e molto semplici. One Nation, One Station suonano anche simili all'italiano, una nazione, nation, una stazione, station, per riassumere. Un'altra qualità che deve avere un claim che spacca è quello di essere breve, tre massimo quattro parole. Ad esempio, Radio Globo, la radio dove lavoro, ha come claim solo le migliori. Tre parole, semplici, esplicative, suoniamo solo le migliori. Very Normal People, RTL, tre parole, One Nation, One Station, radio DJ, quattro parole, solo musica italiana, radio Italia, tre parole, style rock, Virgin Radio, due parole. Anche qui, in inglese, però molto semplice anche loro da ricordare. Un claim che spacca deve essere anche rafforzativo, è forse la qualità principale tra le altre. Il claim deve in qualche modo rafforzare l'emittente. Ci sono solitamente nei claim delle radio italiane dei termini che rievocano la supremazia oppure l'abbondanza, comunque un primato o una grandezza in qualche modo. Vi faccio sempre degli esempi concreti perché è lì che noi poi capiamo, analizziamo quello che già funziona per capire come potrebbe funzionare meglio la nostra emittente. Ad esempio, solo le migliori, il claim di Radio Globo, ha come aggettivo di primato migliori. Qualcosa di migliore, qualcosa di meglio, di più, di più grande, di più bello. Ecco, un altro claim famoso che abbiamo già citato più volte, 100% grandi successi. Qui ci sono tre parole, semplici, chiare, brevi e tutte e tre rafforzative. 100%, non l'80 e il 30, ma il 100%, il massimo. Grandi, che di per sé è più grande appunto, è più abbondante. Successi, un successo è qualcosa di molto fico, che è andato molto bene. Ecco come RDS forse è il claim che racchiude tutte queste qualità. Un altro claim importante che ha la qualità dell'essere rafforzativo è One Nation, One Station, che apparentemente non è rafforzativo. In realtà, se lo analizziamo, ci dice una stazione, una nazione. Non una tra le radio, ma è una sola. Ecco come c'è questo termine rafforzativo che è quello legato alla qualità del primato. È una radio. Un claim che spacca deve anche essere unico. Questa qualità non può mancare. Non dobbiamo copiare gli altri o essere simili. Ci potrebbero confondere, anche nei dati d'ascolto, qualcuno potrebbe confondere il nostro claim con quello del nostro competitor. Cosa ci rende unici? Spieghiamolo nel claim. Per esempio, il claim potrebbe rafforzare il fatto che parliamo solo di notizie del nostro territorio e inseriamo quindi nella frase chiave, nel claim del nostro emittente, qualcosa che esprima questo concetto. Lo ha fatto benissimo, per esempio, Radio Norva, che ha scelto come claim la radio del sud. E la radio, anche qui, primato, rafforzativo, non una delle radio, ma la radio del territorio, quindi del sud. Mi rende unica. Sono io la radio del sud, non un'altra. Nessun'altra. Sono la radio del sud. Quindi, se abbiamo scelto, per esempio, magari non siamo legati a un territorio, ma un certo tipo di musica, la nostra unicità la potremmo esprimere nel nostro claim in modo chiaro e tondo. Virgin Radio ha scelto come claim Style Rock. Si è autoqualificata come la radio che suona rock. Rafforzativo, breve, semplice e esplicativo. Ce li ha tutti. RMC, musica di gran classe. Non troverete musica popolare di basso livello, non troverete tarantelle, mazzurche, ma solo musica di un livello elevato. Anche qui c'è il rafforzativo, anche qui c'è l'unicità, anche qui c'è un concetto breve. Chiaro e semplice. Questi sono i cinque elementi che fanno di un claim un claim che spacca. Esplicativo, semplice, breve, rafforzativo e unico. Piccola nota a margine. Il claim potrebbe diventare più efficace e più facile da memorizzare se legato ad un logo sonoro. Lo sappiamo bene che anticchiare il nome della radio rende il tutto più divertente e più memorizzabile dal punto di vista dell'ascoltatore e più efficace dal punto di vista del brand della nostra emittente. Non deve essere per forza una melodia, poi, se ci pensiamo. Il logo sonoro può essere anche un suono. Lo sanno bene le case automobilistiche, hanno tutte un logo sonoro legato al loro marchio. Lo sa bene Radio DJ. One Nation, One Station, in mezzo a una serie di suoni che sono memorizzati da tutti gli ascoltatori. Basterebbe sentire quei suoni per ricordarsi il claim One Nation, One Station. Quindi non serve per forza una melodia. Basta un logo sonoro efficace. Spero che vi sia stata utile questa mia riflessione sulle qualità che ogni radio dovrebbe avere nel proprio claim per avere un risultato efficace in termini di posizionamento e di mission comunicati in modo chiaro ai propri ascoltatori. E si gioca tutto lì. A volte, sulla chiarezza del messaggio, si decidono le sorti di un emittente. Oltre a centomila fattori di cui abbiamo già parlato e di cui parleremo ancora. Radio Strategi finisce qui per questa settimana. L'appuntamento è alla prossima. Da Giorgio De Cresi è tutto. Io vi aspetto qui. Ciao!